In inverno abbiamo preso un cagnolino alla bambina, la bambina Martina, come bellino il cagnolino, per compagnia. Adesso dobbiamo andare in villeggiatura e non ce lo possiamo portare. Mi dispiace pure, ma lo dobbiamo sperdere. Come si dice? Lo dobbiamo disperdere. Cioè non serve più e si disperde nell'ambiente, come se fosse un medicinale scaduto. Si prende perché la compagnia dell'animaluccio fa bene, si sa. Poi una volta finita la cura si butta. Quello lì è un animale. Tieni il cuoricino, tieni il cervello, capisce. Lui si è addirittura affezionato. Trova un'altra soluzione, ma non abbandonare. Ma i suoi cere vanno in albergo e mia sorella deve fare il viaggio. Come faccio? Trova un'altra soluzione, ma non abbandonare. Poi, se ti sei fissata che per forza vuoi fare un abbandono estivo, sai guidare tu. Abbandona ma ridete dopo all'autostrada, pure per fare una vacanza diversa. Meglio l'animal, si sa.